Gentili telespettatori, buona giornata. Si parla in queste ore ancora e spesso del reddito di cittadinanza. Giuseppe Conte, il leader forse del Movimento 5 Stelle, non molla, dice ci sarà sempre. La dignità del lavoro, dice, passa attraverso retribuzioni adeguate. Il reddito di cittadinanza ha un'altra funzione, è una cintura di protezione, non è un ostacolo al mondo del lavoro. Noi dobbiamo continuare a lavorare con serietà e rigore per completare e rendere efficiente ed efficaci le politiche del lavoro, ma per il reddito di cittadinanza ci sarà sempre spazio, perché purtroppo ci saranno sempre fasce marginate della popolazione. Lo dice a Napoli, il Giuseppe, dice non mi sono mai definito federatore, è un'etichetta data dei giornali, io sto lavorando per il povimento e mi vedo, se gli iscritti lo vorranno, come nuovo leader. Sta dicendo delle verità Conte e sta dicendo delle cose che deve dire per forza. Lui deve sostenere per forza il reddito, dice ci sarà sempre, perché serve per sostenere delle fasce emarginate della popolazione. deve dirlo, perché è la bandiera principale del Movimento 5 Stelle, quindi deve dirlo per forza, però dice una cosa importante che è giusta. Diamo a Giuseppe quello che è di Giuseppe. La dignità del lavoro passa attraverso le retribuzioni adeguate, il reddito ha un'altra funzione, è una cintura di protezione, non è ostacolo al mondo del lavoro. E qui ha ragione. Il reddito di cittadinanza che io non condivido, e prima lo cancellano meglio è, il reddito di cittadinanza non fa concorrenza al lavoro, non toglie posti di lavoro, cioè nel senso non toglie candidati alle aziende. Il reddito di cittadinanza ha un'altra funzione che io non condivido, che è quella di mantenere la gente. Lui parla di fasce emarginate della popolazione. Attenzione, attenzione. C'è chi prende il reddito che magari realmente per lui è fondamentale e non avrebbe altro modo per sostenersi. Quindi ci sono alcune persone che prendono il reddito che se analizzi la loro situazione dici, beh, insomma, è giusto che lo Stato in questi casi lo dia. Ma nella maggior parte dei casi, nella maggior parte dei casi, il reddito di cittadinanza viene dato spesso a persone che manco lo cercano il lavoro. Io ho un parente, ho un parente, ho un parente che è da quasi vent'anni che non lavora. Lui e la moglie non lavorano e sono in quattro in famiglia, in quattro in famiglia e non lavorano. Non lavorano perché il lavoro è fatica, mi danno quello stipendio lì, ma tra le spese della macchina, eccetera eccetera, la benzina, così, ma no, sto a cazzo. Allora, c'è anche tanta gente che realmente non ha voglia di lavorare. C'è gente che sta, parliamoci chiaro, c'è gente che sta aspettando, anzi, c'è gente che si fa mantenere dai genitori, dai genitori proprio, dai genitori del coniuge, e ve lo dico per esperienza, conosco gente che si fa mantenere dai genitori, gente come famiglia, che si fa mantenere dai genitori che gli passano parte della pensione, ma non perché poverini non trovano lavoro, manco lo cercano. Allora, nel reddito di cittadinanza c'è di tutto, ci sono le persone che stanno truffando lo Stato perché non ne hanno diritto, ci sono quelli che veramente ne avrebbero bisogno perché hanno una condizione particolare e ci sono poi quelli che veramente non hanno voglia di lavorare. È ovvio che se lo Stato dice io do questi soldi a chi non lavora, c'è chi non lavora perché è disoccupato, chi non lavora perché non cerca lavoro, chi non lavora perché non vuole lavorare, ci sono tanti chi fa attività illecite e quindi risulta nulla tenente, nulla facente e con il reddito a rotonda, ce ne sono tante di situazioni di questo tipo. Pertanto il reddito che per me non funziona, come dice Conte, non c'entra niente col lavoro che passa attraverso delle retribuzioni adeguate, quello che sto dicendo io in questi giorni. Dire, dire che uno preferisce prendere il reddito di cittadinanza a 550 euro piuttosto che andare a lavorare nei campi, nei campi, a raccogliere le zucchine o andare a fare il cameriere dieci ore al giorno, abbiamo visto gente che sia scandalizzata, come? Come? Tu rifiuti un lavoro, un lavoro che ti nobilita, diventi un duca conte facendo il lavoro, diventi un principe ereditario, ti nobilita, diventi un nobiluomo, una nobildonna. Ecco, questo grande lavoro che ti nobilita, che chi ha detto questa cavolata, adesso lo cercherò, mi informerò, non so chi è il primo che ha detto questa scemenza che il lavoro nobilita, perché il far niente non ti nobilita, stare lì a pensare essere o non essere non ti nobilita. Vabbè, il reddito di cittadinanza, come vi dico io che io non condivido, non c'entra niente col lavoro, non si può dire, ah, tu non vai a lavorare come cameriere a 600 euro, nei campi a 600 euro e stai a casa a far niente, e fa benissimo. Voi che cosa fareste? Parliamoci chiaro io e voi, come se fosse un colloquio a due, tu cosa faresti? Ti dico domani mattina ti alzi alle 5 del mattino e vai a lavorare nei campi, ti do 600 euro e torni stasera alle 9, neanche il tempo di dormire riparti per i campi lì in domani, oppure ti passo io come stato 600 euro e fai quello che vuoi. Eh? Vuoi che cosa scegliereste? Tu che cosa sceglieresti? Io starei a casa a prendere il reddito. Realmente io andrei a lavorare al ristorante per 600 o 1000 euro al mese, che è una sorta di sfruttamento, anche se c'è qualcuno che dice no, beh, è legale. Non sono sfruttanti, è legale, sono i contratti, allora i contratti non vanno bene, i contratti vanno cambiati, il governo li deve cambiare. Dice, ma le tasse sono troppo alte, il governo deve abbassare le tasse e dare più soldi ai lavoratori. Questa è la realtà, è quello che dice anche Conte. La dignità del lavoro passa attraverso retribuzioni adeguate, adeguate il reddito a un'altra funzione che lui deve difendere, perché a capo dei 5 Stelle lo deve difendere, ma lui sa benissimo che va cancellato, ma non può dire di cancellarlo. è diventato politico, non più l'avvocato di prima, ma politico, deve fare buon viso a gioco dei 5 Stelle. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.